Sono quattro le novità contenute nella nuova legge sulle case popolari approvata dal Consiglio regionale con un voto bipartisan con gli emendamenti di Lorenzo Sospiri di Forza Italia e Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle. Il primo punto fondante è il requisito di cinque anni di cittadinanza italiana ovvero per i cittadini stranieri la regolare residenza in Italia da almeno cinque anni. Secondo punto è il diritto di prelazione per i residenti da almeno cinque anni nel bacino d'utenza cui appartiene il comune che emette il bando per gli alloggi popolari. Al terzo punto ce lo stop ai pregiudicati. Chi fa richiesta di case popolari non deve aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'avviso condanne con sentenze passate in giudicato o di patteggiamento per delitti non colposi per i quali sono previste pene detentive non inferiori ai cinque anni. Ultimo punto il giro di vite sugli abusivi. La legge infatti introduce il divieto per le società erogatrici di luce gas e acqua di stipulare contratti per alloggi atere e comunali con soggetti sprovvisti del titolo di assegnazione e l'interruzione del servizio nei casi accertati di occupazione abusiva. Il progetto di legge che porta la firma di sospiri è stato sottoscritto anche dai consiglieri Gianni Chiodi, Mauro Di Dalmazio, Lucrezio Paolini e Sandro Mariani e modifica l'articolo 2 della legge 96 del 1996 che in sostanza permetteva di avere diritto a presentare domanda con la cittadinanza italiana o con la residenza anagrafica o con la documentazione di un'attività lavorativa per un mese. Una legge varata quando i flussi migratori erano nettamente inferiori. Oggi secondo l'Istat in Abruzzo al 1 gennaio 2017 è straniero il 6,5 per cento della popolazione residente mentre sono 3.000 i cittadini in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Quasi tutte le regioni a partire da Toscana ed Emilia Romagna hanno già inserito il criterio della quantità temporale della residenza. L'Abruzzo si è adeguato andando oltre per esempio sulla legalità anche perché da tempo vengono denunciati gravi problemi di controllo del territorio nei quartieri popolari ad esempio a Pescara.